Nei mari italiani quest'anno va in scena la pesca all'evasore. Lungo le coste del bel paese e soprattutto nei luoghi frequentati dai megayot navigano anche le forze dell'ordine alla caccia di ricchi nullatenenti. E così i natanti della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della capitaneria di porto, persino la guardia forestale e la polizia locale fanno valere il loro diritto di salire a bordo delle barche e passare ai raggi su tutti i documenti, soprattutto quelli fiscali. Per questo motivo i porti turistici frequentati dai VIP sono quasi vuoti, gli italiani sono in fuga dai nostri mari, preferendo Corsica e Croazia. Nulla temono gli arabi, gli americani ed i russi, unici a sostare a lungo nei nostri porti e non perseguibili dalle nostre fiamme gialle. Questa estate a decidere se mettere la barca in mare sarà il commercialista e non l'armatore. Lamentele arrivano dalle associazioni dei gestori degli approdi privati. Dicono che in questo modo lo Stato, per recuperare pochi milioni di evasioni, rischia di perdere miliardi di consumi turistici. Secondo il manager di un approdo a porto rotondo, chi ha deciso di non mettere la barca in mare non è un evasore. Magari ha la barca intestata alla società e non vuole esporre se stesso e l'azienda a controllo estenuante. C'è da dire, aggiunge, che a farsi vedere in mare con la finanza a bordo si rischia di finire sulle pagine dei giornali, esponendosi a commenti di ogni tipo.